La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno Innovazione and Leadership Electric Mobility. Il premio va a Reinova! Per essere il primo centro di eccellenza europeo per il collaudo e la convalida di componenti di motopropulsori elettrici e ibridi, per la capacità di guidare il cliente con esperienza, impegno e soluzioni su misura, volte a semplificare e velocizzare i processi di mobilità. Per essere in grado di fornire soluzioni innovative orientate al futuro, semplici e veloci per ridurre il time to market, aumentando il livello di qualità e mantenendo un basso rischio tecnologico. Siete un po' troppo indietro però, secondo me, un po' più avanti. Benissimo, Reinova! Sicuramente si vedono tutti in foto, quindi meglio un passo avanti. Questa sera siamo in compagnia di Giuseppe Corcione, CEO di Reinova, un'eccellenza italiana ed europea che ha l'obiettivo di promuovere l'elettrificazione del settore mobility. Visto che lei, oltre ad essere il CEO, è anche founder di Reinova, chi meglio di lei può raccontarci come è nato il vostro progetto innovativo e cosa vi distingue dai competitor? Il progetto nasce nel 2020, ottobre del 2020, da una idea di creare un centro di competenze e di transizione all'interno della Motor Valley italiana e soprattutto per favorire e supportare le aziende ad entrare nel settore della mobilità elettrica. Noi in Italia abbiamo avuto la padronanza totale del settore tradizionale dei motori a combustione interna, molte delle competenze in settore elettrificazione non erano presenti per ragioni culturali. Quindi ho cercato di creare un'azienda dal nulla, quindi è nata ed è stata fondata da investimenti totalmente privati dopo un'esperienza internazionale, con l'obiettivo di supportare questo tipo di transizione e favorire un cambio anche culturale sia dal mondo universitario fino ad arrivare alla realizzazione delle attività produttive ed investimenti localizzati. Una delle attività principali che hanno spinto la nascita di questa azienda era proprio di colmare un gap, cioè era inspiegabile perché noi dovessimo andare al di fuori del territorio italiano e molto spesso europeo per poter essere competitivi con argomenti riguardanti la mobilità sostenibile. Tra i cavalli di battaglia di Renova c'è la semplificazione dei processi e la personalizzazione dei servizi offerti. Come raggiungete questi due obiettivi? Una delle problematiche principali che sono presenti all'interno del settore della mobilità e dell'ingegneria in generale legata alla mobilità elettrica è che i metodi utilizzati nella condizione tradizionale non sono più applicabili, non ci sono più tempi lunghi per poter sviluppare, quindi abbiamo bisogno di avere agilità e flessibilità in quello che facciamo adottando metodologie diverse. Questo significa avere curiosità, spingere ovviamente le risorse a pensare in una modalità differente e una delle scelte principali è applicare la capacità di sperimentare nuove metodologie di calcolo, di versione, di testing e di validazione. Questo lo si può fare solo e esclusivamente avendo il coraggio ovviamente di innovare costantemente nel settore in cui ci stiamo proponendo. Adesso passerei ad una domanda che ci riguarda tutti da vicino. A che punto è l'Italia sulla morbidità elettrica e cosa si può ancora fare per implementare questo cambiamento culturale? Guardi, io su questo sono molto poco diplomatico. L'Italia penso sia uno dei paesi più incredibili a livello internazionale per la capacità e l'innovazione che è in grado di fare, ma allo stesso tempo vive una controversia assurda. Cioè siamo anche il paese che cerca di promuovere un referendum per cercare di abolire la transizione verso l'elettrificazione. L'innovazione e il progresso di tecnologie non si possono fermare, non si possono controllare, quindi è veramente stupido cercare di fermare o rallentare un processo. Quindi abbiamo tanto da fare, tantissimo. La cosa principale che c'è da supportare è che le aziende devono unirsi insieme condividendo investimenti, tecnologie scelte che li porteranno ovviamente a vincere una battaglia di competitività sul mercato, che ad oggi questo non c'è. Singolarmente in questo settore non ce la può fare nessuno, né io né nessun altro imprenditore, anche le grandi multinazionali non ce la potranno fare a sopravvivere. Quindi serve una chiara visione strategica a livello anche politico e governativo, ma serve principalmente una forza imprenditoriale che metta insieme non solo risorse economiche, ma anche risorse di intelletto e supportino ovviamente questo livello di innovazione. Questa sera avete ricevuto l'award Le Fonti che premia la vostra posizione di eccellenza nel campo della mobilità elettrica. Vorremmo sapere cosa rappresenta per voi questo riconoscimento e se tornerebbe qualora fosse ricandidato. Guardi, la prima cosa, qualunque volta c'è un award, credo che sia un qualcosa fondamentale non tanto per me, che ho cercato di investire, ma principalmente per tutti i collaboratori che lavorano quotidianamente e fanno ovviamente ogni sforzo per rendere l'azienda positiva. Quindi per me è un orgoglio non da imprenditore, non da manager, ma nel vedere gli altri che possono ovviamente soffrire di un'attività del genere. A ritornare, ritornerei assolutamente, sia io penso che l'intera azienda. Una delle cose principali è che la world serve semplicemente a dare a noi il riconoscimento che quello che stiamo facendo ha un senso ed ha un senso corretto nella direzione che vogliamo portare avanti.